proust parte seconda con brè al passo saltellante del suo cavallo golo pervaso di un atroce disegno usciva dalla piccola foresta triangolare che vellutava di un verde cupo il declivio di una collina e avanzava soppalzando verso il castello della povera genoveffa di brabante quel castello era tagliato secondo una linea curva che altro non era se non il bordo di uno degli ovali di vetro inseriti nel telaio che ci facevano scorrere tra le scanalature della lanterna era soltanto un'ala del castello e davanti si stendeva una landa dove sognava genoveffa che aveva una cintura azzurra il castello e la landa erano gialli e io non avevo dovuto aspettare di vederli per conoscerne il colore da che prima dei vetri della lanterna la sonorità bruno rossiccia del nome di brabante ve l'aveva mostrato con evidenza golo si fermava un momento per ascoltare con tristezza la didascalia letta ad alta voce dalla prozia che lui aveva l'aria di intendere perfettamente conformando il suo atteggiamento con una docilità che non escludeva una certa maestà alle indicazioni del testo poi si allontanava col solito passo sobbalzante e nulla poteva arrestare la sua lenta cavalcata e si spostava la lanterna distinguevo il cavallo di golo che continuava ad avanzare sulle tende della finestra confiandosi delle loro pieghe sprofondando nei loro solchi il corpo stesso di golo di un'essenza soprannaturale come quella della sua cavalcatura aderiva a qualsiasi ostacolo materiale ad ogni oggetto ingombrante che incontrava prendendolo come ossatura e rendendolo interiore a sé fosse anche la maniglia della porta dalla quale subito si adattava e si stagliava invincibilmente la sua veste rossa o il suo volto pallido sempre ugualmente mobile e malinconico ma che non lasciava apparire turbamento per quella transvertebrazione certo mi trovavo del fascino in quelle brillanti proiezioni che sembravano emanare da un passato merovingio e facevano fluttuare intorno a me così antichi riflessi di storia ma non posso dire quale malessere mi causasse tuttavia quell'intrusione del mistero e della bellezza in una stanza che avevo finito con riempire del mio io al punto da non fare più caso né all'una né all'altro venuta meno l'influenza anestetizzante dell'abitudine mi mettevo a pensare a sentire cose infinitamente tristi quella maniglia della porta della mia camera che differiva per me dalle maniglie di tutte le altre porte del mondo per il fatto che sembrava aprirsi da sola senza che io dovessi girarla tanto l'uso me ne era divenuto inconsapevole ecco che ora serviva di corpo astrale a golo e non appena suonavano per la cena ero ansioso di correre nella sala da pranzo dove la grande lampada sospesa che nulla sapeva di golo e di barba blu ma che conosceva i miei genitori e il manzo in casseruola spandeva la sua luce di tutte le sere e di cadere tra le braccia della mamma che le sventure di genoveffa di brabante mi rendevano più cara mentre i misfatti di golo mi inducevano a esaminare la mia propria coscienza con maggior scrupolo dopo cena e me ero ben presto costretto a lasciare la mamma che rimaneva a conversare con gli altri in giardino se il tempo era bello nel salottino dove tutti si ritiravano se il tempo era cattivo tutti salvo la nonna la quale trovava che è un peccato restarsene al chiuso in campagna e aveva continue discussioni con mio padre nei giorni di gran pioggia perché lui mi mandava a leggere nella mia stanza invece di permettere che restassi fuori non è così che lo farete diventare robusto ed energico diceva lei tristemente soprattutto questo piccino che ha tanto bisogno di acquistare forza e volontà mio padre scrollava alle spalle ed esaminava il barometro poi chiamava la meteorologia mentre mia madre evitando di far rumore per non disturbarlo lo guardava con un rispetto intenerito ma senza troppa insistenza per non cercare di penetrare il mistero delle sue superiorità ma la nonna qualsiasi tempo facesse anche quando la pioggia infuriava e françoise precipitosamente aveva riportato dentro le preziose poltrone di vimini per paura che si bagnassero si vedeva nel giardino deserto e sferzato dall'acquazzone rialzare le sue ciocche disordinate e grigie affinché la fronte meglio si imbevesse della salubrità del vento e della pioggia diceva finalmente si respira troppo simmetricamente allineati per i suoi gusti dal nuovo giardiniere sprovvisto del sentimento della natura e al quale mio padre aveva domandato fin dal mattino se il tempo si sarebbe aggiustato con il suo piccolo passo vivace e saltellante regolato sui differenti moti che suscitavano nel suo animo l'ebbrezza del temporale la potenza dell'igiene la stupidità della mia educazione e la simmetria dei giardini piuttosto che sul suo desiderio a lei ignoto di evitare alla sua sottana color prugna le macchie di fango sotto le quali finiva con lo scomparire fino a un'altezza che per la sua cameriera era sempre una disperazione e un problema quando le passeggiate in giardino della nonna venivano dopo cena una sola cosa aveva il potere di farla rientrare era in uno di quei momenti nei quali la rotazione del suo giro la riconduceva periodicamente come un insetto dinanzi alle luci del salottino dove erano serviti i liquori sul tavolo da gioco batilde viene a proibire a tuo marito di bere il cognac in effetti per contrariarla lei aveva portato nella famiglia di mio padre uno spirito così diverso che tutti la prendevano in giro e la tormentavano poiché i cuori erano proibiti al nonno la proizia gliene faceva bere qualche goccio la mia povera nonna entrava pregava ardentemente il suo marito di non assaggiare il cognac lui si arrabbiava beveva ugualmente il suo sorso e la nonna se ne andava via triste, scoraggiata ma sempre sorridente perché era così umile di cuore e così dolce che la sua tenerezza per gli altri e il poco conto che faceva della propria persona e delle proprie sofferenze si conciliavano nel suo sguardo in un sorriso dove diversamente da quel che si vede nel volto di molti esseri umani non vera eronia se non per se stessa e per tutti noi invece come un bacio dei suoi occhi che non potevano posarsi su coloro che le erano cari senza accarezzarli appassionatamente con lo sguardo quel supplizio che le infliggeva la proizia lo spettacolo delle vane preghiere della nonna e della sua debolezza vinta in partenza nell'inutile tentativo di togliere al nonno il bicchierino di liquore era una di quelle cose alla cui vista più tardi ci si abitua fino a considerarle ridendo e a prenderle parte del persecutore con sufficiente risolutezza e allegria onde persuadere se stessi che non si tratta di persecuzioni allora esse mi ispiravano un tale orrore che avrei voluto picchiare la prozia ma appena sentivo Batilde vieni a proibire a tuo marito di bere il cognate da uomo per viltà facevo ciò che facciamo tutti una volta divenuti adulti quando ci si presentano innanzi delle sofferenze e delle ingiustizie non volevo vederle salivo a piangere nella parte più alta della casa accanto alla sala da studio sotto i tetti in una piccola stanza odorosa d'iris alla quale dava il suo profumo anche un ribes selvatico cresciuto di fuori tra le pietre del muro e che insinuava un ramo fiorito attraverso la finestra socchiusa destinata ad un uso più particolare più volgare quella stanza dalla quale di giorno la vista spaziava fino al torrione di Eurussianville-Pen per lungo tempo mi servì di rifugio senza dubbio perché era la sola che mi fosse consentito di chiudere a chiave per tutte quelle tra le mie occupazioni che esigevano un'inviolabile solitudine la lettura la fantasticheria le lacrime e la volutà ahimè non sapevo che assai più tristemente delle piccole trasgressioni di regime di suo marito la mia mancanza di volontà la mia salute delicata l'incertezza che esse proiettavano sul mio avvenire preoccupavano la nonna nel corso di quelle diambulazioni incessanti del pomeriggio della sera quando si vedeva passare e ripassare obliquamente alzato verso il cielo il suo bel volto dalle gote scure segnate divenute nel volgere degli anni e di un colore quasi malva come i campi arati in autunno attraversate si andava fuori da una veletta mezzo sollevata e sulle quali portata là dal freddo o da qualche triste pensiero era sempre sul punto da asciugarsi una lacrima involontaria la mia unica consolazione quando salivo a colicarmi era che la mamma sarebbe venuta a darmi un bacio non appena fossi stato a letto ma quella buonanotte durava così poco lei ridiscendeva così presto che il momento in cui la sentivo salire e poi quando nel corridoio dalla doppia porta trascorreva il fluscio leggero della sua veste da giardino di mussola azzurra dalla quale pendevano dei cordoncini di paglia intrezzata era per me un momento doloroso era l'annuncio di quello che sarebbe seguito quando mi avrebbe lasciato quando sarebbe ridiscesa di modo che quella buonanotte che amavo tanto giungevo a deciderare che venisse il più tardi possibile perché si prolungava il tempo di tregua durante il quale la mamma non era ancora venuta talvolta quando dopo avermi baciato apriva la porta per uscire io volevo chiamarla dirle dammi un altro bacio ma sapevo che subito ne sarebbe rimasta infastidita perché la concessione che faceva alla mia tristezza e alla mia agitazione salendo ad abbracciarmi recandomi quel bacio di pace irritava mio padre che trovava assurdi quei riti e lei avrebbe voluto tentare di farmene perdere la necessità l'abitudine ben lungi dal lasciarmi prendere quella di chiederle quando era già sulla soglia dell'uscio un bacio in più ora vederla adirata distruggeva tutta la calma che mi aveva recato un istante prima quando aveva acchinato sul mio letto il suo viso amoroso e me lo aveva atteso come un'ostia per una comunione di pace alla quale le mie labbra avrebbero attinto la sua presenza reale e il potere di addormentarmi ma quelle sere in cui la mamma finiva per restare così poco in camera mia erano ancora dolci a confronto di quelle in cui avevamo gente a cena e lei a causa di ciò non saliva a darmi la buonanotte la gente si limitava normalmente al signor Swan che salvo qualche forestiero di passaggio era quasi la sola persona che venisse da noi a Combrè qualche volta a cena come avviene tra vicini più raramente dopo che aveva fatto quel cattivo matrimonio in quanto i miei non volevano ricevere sua moglie altre volte dopo cena all'improvviso la sera in cui seduti davanti alla casa sotto il grande ipocastano attorno al tavolo di ferro sentivamo dal fondo del giardino non il sonaglio insistente e chiassoso che inondava che stordiva al passaggio con il suo rumore ferruginoso inesauribile e zelido tutti quelli di casa che lo scuotevano entrando senza suonare ma il doppio tintinio timido ovale e dorato della campanella per gli estranei ciascuno subito si domandava una visita chi può essere ma si sapeva bene che non poteva essere altri che il signor Swan la prozia parlando ad alta voce per dare l'esempio in un tono che si sforzava di rendere naturale diceva di non bisbigliare a quel modo che niente è più scortese nei confronti di una persona che viene in visita e alla quale così si fa credere che si stiano dicendo cose che essa non deve sentire e si mandava in esplorazione la nonna sempre felice di avere un pretesto per fare un altro giro in giardino e lei ne approfittava per strappare furtivamente al passaggio qualche sostegno dei rosai per restituire ai fiori un po' di naturalezza come una madre che per renderli più ariosi passi una mano tra i capelli del figlio che il parrucchiere ha troppo appiattito restavamo tutti in sospeso per le notizie che la nonna ci avrebbe portato del nemico come se si fosse potuto esitare tra un gran numero di possibili assalitori e subito dopo il nonno diceva riconosco la voce di Swan in effetti lo si poteva riconoscere soltanto dalla voce il suo volto dal naso aquilino dagli occhi verdi sotto un'alta fronte circondata di capelli biondi quasi rossi pettinati alla brassard era difficile da distinguere poiché in giardino tenevamo il minimo possibile di luce per non attirare le zanzare e io andavo a dire senza dare nell'occhio che si portassero le bevande la nonna attribuiva grande importanza sembrandole ciò più cortese al fatto che queste non apparissero come qualcosa di eccezionale e soltanto per le visite il signor Swan per quanto assai più giovane di lui era molto legato a mio nonno che era stato uno dei migliori amici di suo padre uomo eccellente ma singolare al quale sembra bastava un non nulla a volte per interrompere gli slanci del cuore per mutare il corso del pensiero più volte ogni anno sentivo il nonno raccontare a tavola degli aneddoti sempre gli stessi sul contegno tenuto da Swan padre alla morte di sua moglie che aveva vegliato giorno e notte il nonno che non lo vedeva da molto tempo era a corso presso di lui nella proprietà che gli Swan possedevano nei dintorni di Combrè ed era riuscito per evitare che assistesse alla chiusura della bara a fargli lasciare per un momento in lacrime la camera mortuaria fecero due passi nel parco dove c'era un po' di sole improvviso il signor Swan prendendo mio nonno per un braccio aveva esclamato ah mio vecchio amico che gioia passeggiare insieme con questo bel tempo non trovate incantevole tutto ciò gli alberi biancospini e il mio leghetto per il quale non mi avete ancora fatto i complimenti ma voi avete un'aria un po' tetra non sentite questo venticello ah è un bel dire la vita è qualcosa di buono dopo tutto mio caro Amedè bruscamente il ricordo della moglie morta lo riassalì e trovando indubbiamente troppo complicato cercare come avesse potuto in un momento simile lasciarsi andare a un moto di gioia si contentò con un gesto che gli era familiare ogni volta che una questione difficile gli si presentava alla mente di passarsi la mano sulla fronte d'asciugarsi gli occhi e le lenti del pince nez non poté consolarsi tuttavia della morte della moglie ma nei due anni che le sopravvisse confidava a mio nonno è strano penso di continuo alla mia povera moglie ma non riesco a pensarci tanto in uno stesso momento spesso ma poco per volta come il povero Swan padre era diventata una delle frasi preferite del nonno che la pronunciava a proposito delle cose più disparate questo padre di Swan mi sarebbe sembrato un mostro e il nonno che io consideravo il migliore dei giudici e le cui sentenze avevano per me valore di giurisprudenza e in seguito mi sono servite più di una volta ad assolvere colpe che sarei stato inclini a condannare non avesse protestato ma come era proprio un cuor d'oro per molti anni durante i quali tuttavia soprattutto prima del suo matrimonio Swan figlio venne spesso a far loro visita con Brè la prozia e i nonni non ebbero mai il sospetto che lui non vivesse più ormai nella cerchia sociale frequentata dalla sua famiglia e che sotto quella sorta di incognito assicuratagli in casa nostra dal nome di Swan accoglievano con l'assoluta innocenza di onesti albergatori che danno alloggio senza saperlo a un famoso bandito uno dei più eleganti membri del Jockey Club amico prediletto del conte di Parigi e del principe di Galles uno degli uomini più vezzeggiati dell'alta società del Fauburg Saint Germain la nostra ignoranza circa la brillante vita mondana condotta da Swan era dovuta evidentemente almeno in parte alla riservatezza e alla discrezione del suo carattere ma anche al fatto che i borghesi da allora avevano della società un'idea un po' induista e la consideravano quasi composta di caste chiuse dove ciascuno fin dalla nascita si trovava collocato nello stesso rango occupato dai genitori e al quale nulla salvo il caso di una carriera eccezionale o di un matrimonio insperato avrebbe potuto sottrarlo per farlo penetrare in una casta superiore suon padre era agente di cambio suon figlio si trovava a far parte per tutta la vita di una casta all'interno della quale gli averi come in una categoria di contribuenti variavano entro un determinato reddito si sapeva quali erano state le amicizie di suo padre dunque si sapeva quali erano le sue quali persone era in grado di frequentare se aveva altre amicizie si trattava di relazioni giovanili sulle quali dei vecchi amici di famiglia come erano i miei parenti chiudevano con tanta più benevolenza gli occhi in quanto lui continuava da quando era rimasto orfano a venire assai fedelmente a trovarci ma si poteva senz'altro scommettere che quelle persone a noi ignote da lui frequentate erano di quelle che non avrebbe osato salutare se le avesse incontrate in nostra presenza se si fosse voluto a tutti i costi applicare a Swan un coefficiente sociale che gli fosse congeniale fra gli altri figli di agenti di cambio di condizioni pari a quella dei suoi genitori questo coefficiente sarebbe stato per lui leggermente inferiore poiché assai semplice nei modi avendo sempre avuto una mania per gli oggetti antichi e per la pittura abitava ora in un vecchio palazzo dove stipava le sue collezioni e che mia nonna sognava di visitare ma che era situato nel Quai d'Orléans quartiere in cui la mia prozia trovava indecente abitare ma poi ve ne intendete davvero? ve lo domando nel vostro interesse perché dovete farvi affibbiare certe croste dai mercanti gli diceva la prozia in effetti lei non gli attribuiva alcuna competenza e anche sotto il profilo intellettuale non aveva una grande opinione di un uomo che in conversazione evitava gli argomenti seri e sfoggiava una precisione assai prosaica non soltanto quando ci dava entrando nei dettagli più minuti delle ricette di cucina ma anche quando le sorelle della nonna parlavano di argomenti artistici pungolato da loro a dare il suo parere a esprimere la sua ammirazione per un quadro manteneva un silenzio quasi scortese e si prendeva la rivincita se poteva fornire un'informazione precisa sul museo dove il quadro si trovava sulla data in cui era stato dipinto ma normalmente si conteneva di cercare di divertirci raccontando ogni volta una nuova avventura che gli era capitata con persone scelte da quelle che conoscevamo il farmacista di Combré la nostra cuoca il nostro cocchiere certo questi racconti facevano ridere la prozia ma senza che lei riuscisse bene a capire se fosse a causa della parte ridicola che Swan immancabilmente vi si attribuiva o dello spirito con cui le raccontava vi può dire che siete proprio un bel tipo signor Swan poiché era la sola persona un po' volgare della nostra famiglia aveva cura di far notare agli estranei quando si parlava di Swan che questi se avesse voluto avrebbe potuto abitare in Boulevard Houseman o in Avenue Opera ed era il figlio del signor Swan il quale doveva avergli lasciato quattro o cinque milioni ma che insomma si trattava di un suo capriccio capricciò che lei del resto giudicava dover essere per gli altri così divertente che a Parigi quando Swan il primo gennaio veniva a portarle il suo pacchetto di marron glacé non mancava se c'era gente di dirgli ebbene signor Swan abitate sempre vicino al deposito dei vini per essere sicuro di non perdere il treno quando andrete a Lione e guardava con la coda dell'occhio al di sopra dell'occhialetto gli altri invitati ma se avessero detto alla prozia che quello Swan che in quanto Swan figlio era perfettamente qualificato per essere ricevuto da tutta la buona borghesia dai notai o dai procuratori più stimati di Parigi privilegio che lui sembrava non tenere in gran conto conduceva come di nascosto una vita completamente diversa che uscendo da casa nostra a Parigi dopo averci detto che andava a dormire ritornava sui propri passi appena girato l'angolo e si recava in uno di quei salotti che l'occhio di nessun agente di cambio o di socio da gente contemplò mai questo sarebbe parso tanto straordinario alla zia quanto a una signora più dotta il pensiero di essere in rapporti personali con Aristeo di cui avesse capito che dopo aver chiacchierato con lei sarebbe corso a sprofondare in seno ai reami di Teti in un dominio sottratto alla vista dei mortali e in cui Virgilio ce lo descrive ricevuto a braccia aperte o per limitarsi a un'immagine che più probabilmente poteva venirle in mente da chi l'aveva vista dipinta sui nostri piattini da dolce di Combrè di aver avuto a cena Alibaba il quale quando saprà da essere solo penetrerà nella caverna abbagliante di tesori impensati un giorno che era venuto a trovarsi a Parigi dopo cena scusandosi d'essere in abito da sera e Francoise dopo che lui se ne fu andato aveva detto di aver sentito dal cocchiere che aveva cenato da una principessa sì una principessa del demimonde aveva risposto la zia alzando le spalle senza levare gli occhi dal suo lavoro a maglia con serena ironia così la prozia lo trattava senza troppi riguardi siccome era convinta che lui dovesse sentirsi lusingato dai nostri inviti le sembrava del tutto naturale che venisse a trovarsi d'estate avendo in mano un cestino di pesche o di lamponi del suo giardino e che da ogni suo viaggio in Italia mi portasse delle fotografie di capolavori non si aveva gran che ritegno di mandarlo a chiamare se avevamo bisogno di una ricetta di salsa aggribisce o di insalata all'ananas per le cene importanti a cui non lo si invitava non riconoscendogli un prestigio sufficiente per poterlo presentare a degli estranei che venivano per la prima volta se la conversazione cadeva sui principi della casa di Francia gente che non conosceremo mai né voi né io e ne possiamo fare a meno non è vero? diceva l'appozio a Swan che magari aveva in tasca una lettera proveniente da Twickman gli faceva spostare il pianoforte e voltare le pagine dello spartito l'essere in cui la sorella della nonna cantava usando nel trattare con quell'essere altrove tanto ricercato l'ingenua rudezza di un bambino che giochi con un ninnolo da collezione senza maggior cautela che con un oggetto di poco conto certamente lo Swan che in quegli stessi anni conobbero tanti frequentatori del club era assai diverso da quello immaginato dalla prozia quando di sera nel piccolo giardino di Combrè dopo che erano risuonati i due rintocchi esitanti della campanella lei arricchiva e vivificava con tutto ciò che sapeva della famiglia Swan lo scuro e incerto personaggio che si stagliava seguito dalla nonna su uno sfondo di tenebre e che riconoscevamo dalla voce ma anche considerando le cose più insignificanti della vita noi non siamo un insieme materialmente costituito identico per tutti e di cui ciascuno non ha che da prendere visione come di un capitolato d'appalto o di un testamento la nostra personalità sociale è una creazione del pensiero altrui anche l'atto così elementare che chiamiamo vedere una persona che conosciamo è in parte un atto intellettuale riempiamo l'apparenza fisica dell'essere che vediamo con tutte le nozioni che possediamo sul suo conto e nell'immagine totale che ci rappresentiamo queste nozioni hanno certamente la parte più considerevole finiscono per riempire così perfettamente le gote per seguire con un'aderenza così esatta la linea del naso si incaricano così bene di sfumare la sonorità della voce come se questa fosse solo un involucro trasparente che ogni volta che vediamo quel viso e sentiamo quella voce sono proprio quelle nozioni che ritroviamo e che ascoltiamo senza dubbio nello swan che si erano rappresentati i miei avevano tralasciato per ignoranza di fare entrare una quantità di dettagli della sua vita mondana che consentivano ad altre persone quando erano in sua presenza di vedere ogni sorta di eleganza rignare sul suo volto e fermarsi al suo naso aquilino come al proprio confine naturale ma in compenso avevano potuto concentrare in quel viso privato del suo prestigio vuoto e spazioso nel fondo di quegli occhi sviliti il vago e dolce residuo metà memoria metà oblio delle ore d'ozio trascorse insieme dopo le nostre cene settimanali attorno al tavolo da gioco o in giardino nel corso della nostra vita di buon vicinato campagnolo l'involucro corporeo del nostro amico era stato così ben colmato insieme con qualche ricordo dei suoi genitori che quello swan era diventato un essere compiuto e vivente e io ho l'impressione di lasciare una persona per andare verso un'altra che ne è distinta quando nella mia memoria dallo swan che ho conosciuto più tardi con esattezza torno a quel primo swan a quel primo swan nel quale ritrovo gli incantevoli errori della mia giovinezza e che d'altronde assomiglia meno all'altro che non alle persone da me conosciute nello stesso periodo quasi fosse della nostra vita come di un museo dove tutti i ritratti di una stessa epoca hanno un'aria di famiglia una tonalità comune a quel primo swan immerso nell'ozio avvolto dall'odore del grande ipocastano dei cestini di lamponi e di un filo di dragoncello eppure un giorno che la nonna era andata a chiedere un favore a una signora che aveva conosciuto al sacre coeur e con la quale a causa della nostra concezione delle caste non aveva voluto rimanere in relazione nonostante una reciproca simpatia la marchesa di vilparisis della cervelle famiglia di bouillon costei le aveva detto credo che conosciate bene il signor swan che è molto amico dei miei nipoti dell'humè la nonna era tornata dalla sua visita piena di entusiasmo per la casa che aveva vista sui giardini e dove la signora di vilparisis le consigliava di prendere in affitto un appartamento e anche per un farsettaio e per sua figlia che avevano la bottega nel cortile e dai quali era entrata a chiedere che le dessero un punto alla sottana strappatasi lungo la scala la nonna aveva trovato queste persone perfette affermava che la ragazza era una perla e il farsettaio l'uomo più distinto il migliore che avesse mai visto per lei infatti la distinzione era qualcosa di assolutamente indipendente dalla condizione sociale si estasiava ripensando a una risposta che le aveva dato il farsettaio e diceva alla mamma se vignè non avrebbe detto meglio e invece di una nipote della signora de vilparisis che aveva incontrato da lei ah figlia mia com'è ordinario ora il discorso relativo a swan aveva avuto per effetto non già di innalzarlo agli occhi della prozia ma di sminuire la signora de vilparisis era commessa la considerazione che noi sulla parola della nonna accordavamo alla signora de vilparisis imponesse a quest'ultima il dovere di non far niente per rendersene meno degna dovere al quale lei era venuta meno con l'apprendere l'esistenza di swan col permettere a uno dei suoi parenti di frequentarlo come come conosce swan una persona che come tu sostieni sarebbe parente del maresciallo macmahon questa opinione dei miei sulle conoscenze di swan parve loro più tardi confermata dal suo matrimonio con una donna della peggiore società quasi una cocotta che d'altra parte non cercò mai di presentarci continuando a venire a casa nostra da solo neanche sempre più di rado ma attraverso la quale essi credettero di poter giudicare supponendo che fosse lì che l'aveva presa l'ambiente a loro sconosciuto che swan frequentava abitualmente ma una volta il nonno lesse in un giornale che swan era uno dei più assigui frequentatori dei pranzi domenicali in casa del duca di x in cui padre e cui zio erano stati gli uomini politici più in vista durante il regno di luigi filippo ora il nonno era curioso di ogni piccolo fatto che potesse aiutarlo a penetrare col pensiero nella vita privata di uomini come mole come il duca di pasquier come il duca di broglie fu lietissimo di sapere che swan frequentava qualcuno che li aveva conosciuti la prozia al contrario interpretò questa notizia in senso sfavorevole a swan uno che sceglieva le amicizie al di fuori della propria classe sociale subiva ai suoi occhi un increscioso deprezzamento e sembrava che si rinunciasse di colpo al frutto di tutte le buone relazioni con gente a posto onorevolmente intrattenute e accumulate per i figli da famiglie previdenti la prozia aveva perfino smesso di frequentare il figlio di un notaio nostro amico perché aveva sposato un'altezza reale ed era perciò disceso secondo lei dal rango rispettabile di figlio di notaio al livello di uno di quegli avventurieri ex camerieri o stallieri nei cui confronti si dice le regine mostrarono talvolta qualche arrendevolezza la prozia disapprovò il progetto del nonno di interrogare Swan la prima volta che fosse venuto a cena su questi amici che gli scoprivamo dal canto loro le due sorelle della nonna anziane signorine che avevano la sua stessa nobiltà d'animo ma non la sua intelligenza dissero di non comprendere quale piacere il cognato potesse trarre dal discorrere di simili sciocchezze erano persone di elevate aspirazioni e appunto per questo incapaci di interessarsi a quel che si dice un pettegolezzo o seppure di interesse storico e in generale a tutto quanto non avesse direttamente a che fare con un argomento estetico virtuoso il disinteresse dei loro pensieri per tutto ciò che da vicino o da lontano pareva ricollegarsi alla vita mondana era tale che il loro senso uditivo avendo finito per comprendere la propria momentanea inutilità ogni volta che a tavola la conversazione assumeva un tono frivolo o semplicemente terra terra senza che le due anziane signorine fossero riuscite a ricondurla sugli argomenti che erano loro cari metteva allora a riposo i propri organi recettivi e lasciava subir loro un vero principio di atrofia se in quei casi il nonno aveva bisogno di attirare l'attenzione delle due sorelle doveva ricorrere a quei segnali fisici di cui si servono gli alienisti con certi maniaci della distrazione alcuni colpi battuti a più riprese su un bicchiere con la lama di un coltello accompagnati da un brusco richiamo della voce e dello sguardo mezzi violenti che gli psichiatri spesso trasferiscono nei rapporti normali con persone sane sia per abitudine professionale sia perché credono tutti quanti un po' pazzi le due mostrarono peggiori interesse quando la viciglia di un giorno in cui Suan doveva venire a cena e aveva mandato a loro personalmente una cassa di vino di asti la zia tenendo in mano un numero del figaro dove a fianco del titolo di un quadro esposto a una mostra di coro c'erano queste parole dalla collezione del signor Charles Suan si disse avete visto che Suan ha gli onori del figaro ma io vi ho sempre detto che aveva molto gusto disse la nonna naturalmente tu quando si tratta di pensare diversamente da noi rispose l'aplozia alla quale sapendo che la nonna non era mai del suo stesso parere e non essendo affatto sicura che noi fossimo sempre d'accordo con lei voleva strapparci una condanna in blocco delle opinioni della nonna contro le quali cercava di renderci per forza solidali con le sue ma noi restammo in silenzio le sorelle della nonna manifestarono l'intenzione di parlare a Suan di quella frase del figaro ma la prozia le sconsigliò ogni volta che vedeva negli altri un vantaggio per quanto piccolo che lei non aveva si persuadeva che non era un vantaggio ma un fastidio e li compiangeva per non essere costretta a invidiarli credo che non gli fareste piacere io so per certo che mi riuscirebbe molto sgradevole vedere il mio nome stampato così a tutte lettere sul giornale e non sarei affatto allusincata se qualcuno me ne parlasse non si ostinò d'altronde a persuadere le sorelle della nonna poiché queste per orrore della volgarità si spingevano così innanzi nell'arte di dissimulare dietro perifrasi ingegnose un'allusione personale che questa passava sovente inosservata da quello stesso cui era rivolta quanto a mia madre pensava solo a cercare di ottenere che mio padre si decidesse di parlare a Swan non di sua moglie ma della figlia che Swan adorava a causa della quale si diceva aveva finito col fare quel matrimonio potresti dirgli almeno una parola domandargli come sta deve essere per lui una cosa talmente crudele ma mio padre si irritava ma no che idee assurde sarebbe ridicolo tuttavia il solo tra noi per cui la vista di Swan divenisse oggetto di una preoccupazione dolorosa ero io infatti la sera in cui c'erano degli estranei o semplicemente Swan la mamma non saliva nella mia camera cenavo prima degli altri e più tardi potevo sedermi a tavola fino alle otto quando era convenuto che dovesse andare di sopra quel bacio prezioso e fragile che di solito la mamma mi affidava quando ero nel mio letto al momento di addormentarmi dovevo trasportarlo dalla sala da pranzo alla mia camera e custodirlo per tutto il tempo in cui mi svestivo senza che la sua dolcezza si infrangesse senza che si spandesse ed evaporasse la sua virtù evanescente e proprio quelle sere in cui avrei avuto bisogno di riceverlo con maggior precauzione ero costretto ad afferrarlo ero costretto ad afferrarlo a sottrarlo bruscamente in pubblico senza neppure avere il tempo e la libertà di spirito necessari per prestare da quel che facevo da speciale attenzione dei maniaci che si sforzano di non pensare ad altro mentre chiudono una porta per potere quando l'incertezza morbosa li assalga opporle vittoriosamente il ricordo del momento in cui l'hanno chiusa eravamo tutti in giardino quando risuonarono i due squilli esitanti della campanella sapevamo che era Swan non di meno tutti si scambiarono degli sguardi di interrogazione e la nonna fu inviata in ricognizione cercate di ringraziarlo in modo chiaro per il vino sapete che è delizioso e la cassa è enorme raccomandò il nonno alle due cognate non cominciate a bisbigliare disse la prozia che sollievo arrivare in una casa dove tutti parlano sottovoce ah ecco il signor Swan gli domanderemo se domani secondo lui farà bel tempo disse mio padre mia madre pensava che con una parola avrebbe potuto cancellare tutta la pena che la nostra famiglia doveva aver procurato a Swan dopo il suo matrimonio trovò il modo di condurlo un po' in disparte ma io le andai dietro non potevo decidermi di abbandonarla di un passo pensando che presto avrei dovuto lasciarla nella sala da pranzo e salire nella mia camera senza avere come le altre sere la consolazione che sarebbe venuta a darmi un bacio su via signor Swan gli disse parlatemi un poco di vostra figlia sono sicura che ha già la passione per le cose belle come il suo papà ma venite a sedervi con noi nella veranda dunque disse il nonno avvicinandosi mia madre fu costretta ad interrompersi ma da quella stessa coercizione trasse un pensiero delicato in più come i buoni poeti che la tirannia della rima obbliga a trovare le loro maggiori bellezze riparleremo di lei quando saremo noi due soli disse sottovoce a Swan soltanto una mamma è degna di comprendervi sono certa che la sua sarebbe del mio stesso avviso ci sedemmo tutti quanti attorno al tavolo di ferro avrei voluto non pensare alle ore d'angoscia che avrei trascorso quella sera solo nella mia camera senza riuscire a prendere sonno cercavo di persuadermi che esse non avevano alcuna importanza perché la mattina dopo le avrei dimenticate di aggrapparmi ad alcune idee d'avvenire che avrebbero dovuto condurmi come su un ponte oltre l'abisso imminente che mi terrorizzava ma il mio spirito teso per la preoccupazione reso convesso come lo sguardo che lanciavo su mia madre non si lasciava penetrare da alcuna impressione esterna i pensieri vi entravano certo ma a condizione di lasciar fuori qualsiasi elemento di bellezza o semplicemente di comicità che avrebbe potuto commuovermi o distrarmi come un malato grazie a un anestetico assiste con piena lucidità all'operazione che viene praticata su di lui ma senza sentire nulla potevo recitarmi dei versi che amavo oppure osservare gli sforzi che faceva il nonno per parlare a Swan del duca d'Odifrey Pasquier senza che i primi mi ispirassero alcuna emozione i secondi alcuna allegria quegli sforzi furono infruttuosi non appena il nonno ebbe posto a Swan una domanda relativa a quell'oratore una delle sorelle della nonna alle cui orecchie questa domanda era risuonata come un silenzio profondo ma in tempo estivo e che era buona educazione rompere interpellò l'altra figurati Céline che ho fatto conoscenza con una giovane istitutrice svedese che mi ha raccontato dei particolari molto interessanti sulle cooperative nei paesi scandinavi bisognerà che venga a cena qui una sera lo credo bene rispose sua sorella Flora ma anch'io non ho perduto il mio tempo dal signor Vinteuil ho incontrato un vecchio erudito che conosce molto bene Muban e questi gli ha spiegato nei più minuti dettagli come fa a interpretare un ruolo è la cosa più interessante che ci sia è un vicino di Vinteuil e io non lo sapevo ed è molto gentile il signor Vinteuil non è il solo ad avere dei vicini gentili esclamò la zia Céline con una voce resa acuta dalla timidezza e artificiosa dalla premeditazione mentre lanciava a Swan quello che lei chiamava uno sguardo significativo nel frattempo zia Flora resasi conto che quella frase era di ringraziamento di Céline per il vino d'asti guardava a sua volta Swan con un'aria mista di congratulazione e di ironia sia semplicemente per sottolineare la battuta della sorella sia che invidiasse Swan per esserne stato l'ispiratore sia che non potesse fare a meno di burlarsi di lui già che le pareva fosse alla berlina credo che riusciremo ad avere quel signore a cena continuò Flora quando si porta il discorso su Mubang e sulla maternà parla per ore senza fermarsi deve essere delizioso sospirò il nonno e cui spirito la natura aveva disgraziatamente tralasciato di includere nel modo più assoluto la possibilità di un appassionato interesse per le cooperative svedesi o per la preparazione dei ruoli di Mubin così come si era scordata di fornire quello delle sorelle della nonna del granello di sale che noi stessi dobbiamo aggiungere per trovarvi un qualche sapore a un racconto sulla vita intima di Molè o del conte di Parigi ecco disse Swan al nonno quel che vi dirò adesso è in relazione più di quanto non sembri con ciò di cui mi domandavate perché su certi punti le cose non sono poi tanto cambiate leggevo questa mattina in Saint-Simon qualcosa che vi avrebbe divertito è nel volume sulla sua ambasciata in Spagna non è dei migliori in sostanza non è che un resuconto ma almeno un resuconto scritto in modo meraviglioso il che costituisce già una prima differenza rispetto agli insopportabili giornali che ci sentiamo obbligati a leggere mattina e sera non sono del vostro avviso certe volte la lettura dei giornali mi sembra molto piacevole interruppe la zia Flora per far capire che aveva letto nel Figaro la frase sul coro di Swan quando parlano di cose o di persone che ci interessano incalzò la zia Selin non dico di no rispose Swan stupefatto quel che rimprovero ai giornali è di farci prestare attenzione ogni giorno a cose insignificanti mentre leggiamo tre o quattro volte nella vita i libri dove ci sono le cose essenziali e poiché ogni mattina stracciamo febbrilmente la fascetta del giornale allora bisognerebbe cambiare le cose e nel giornale mettere che so i pensieri di Pascal e gli pronunciò queste parole con un tono d'enfasi ironica per non avere l'aria di un pedante e nel volume col taglio dorato che apriamo una volta ogni dieci giorni soggiunse mostrando per le cose mondane il disdegno ostentato da certi uomini di mondo dovremmo leggere che la regina di Grecia è andata a Cannes o che la principessa di León ha dato un ballo in costume così sarebbe ristabilita la giusta proporzione ma dispiacendosi di essersi lasciato andare a parlare sia pure in tono leggero di cose serie stiamo facendo proprio una bella conversazione disse con ironia non so perché affrontiamo simili vertici e volgendosi verso il nonno dunque Saint-Simon racconta che Mollevrie aveva avuto l'audacia di tendere la mano ai suoi figli e sapete quel Mollevrie di cui dice mai vi di altro in quella stessa bottiglia che malanimo volgarità e stupidità spesso no conosco bottiglie che contengono ben altro disse con vivacità Flora che teneva anche lei a ringraziare Swan perché il dono del vino d'asti era indirizzato a entrambe Céline si mise a ridere Swan interdetto riprese non so se fosse ignoranza o raggiro scrive Saint-Simon egli volle dare la mano ai miei figli me ne avvidi in tempo per impedirglielo il nonno andava già in estasi su ignoranza o raggiro ma la signorina Céline nella quale il nome di Saint-Simon un letterato aveva impedito l'anestesia totale delle facoltà auditive già si indignava come? ammirate tutto questo? ma bene veramente carino ma cosa può voglio dire che un uomo non vale quanto l'altro? che importa se si aduca o cocchiere quando ha intelligenza e cuore? aveva un bel modo di educare i figli il vostro Saint-Simon se non insegnava loro a dar la mano a tutte le persone oneste ma è semplicemente indegno e voi osate citarlo e il nonno desolato avvertendo l'impossibilità di fronte all'ostruzionismo di ottenere che Swan gli raccontasse le storie che le avrebbero divertito diceva sottovoce alla mamma ricordami dunque quel verso che mi ha insegnato e che mi dà tanto sollievo in questi momenti ah sì signor che di virtù non fate her ah come giusto con gli occhi non lasciavo mia madre sapevo che una volta a tavola non mi avrebbero consentito di restare per tutta la durata della cena e che per non contrariare mio padre la mamma non avrebbe permesso che la baciassi più volte davanti agli altri come se fossimo stati in camera mia così mi ripromettevo in sala da pranzo quando si fosse cominciato a mangiare e io avessi sentito approssimarsi l'ora di fare prima di quel bacio che sarebbe stato breve e furtivo tutto ciò che potevo fare da solo scegliere con lo sguardo il punto della gota che avrei baciato preparare il pensiero per avere la possibilità grazie a quel mentale inizio di bacio di consacrare per intero il minuto che la mamma mi avrebbe accordato a sentire la sua gota contro le mie labbra come un pittore che potendo contare solo su brevi sedute di posa prepara la tavolozza e ha fatto già prima memoria sulla base dei suoi appunti tutto ciò per cui può a stretto rigore fare a meno della presenza del modello ma ecco che prima che suonassero per la cena il nonno ebbe l'inconscia ferocia di dire il bambino ha l'aria stanca dovrebbe salire di sopra e mettersi a letto del resto stasera si cena tardi e mio padre che non teneva così scrupolosamente fede ai patti come la nonna e la mamma disse si andiamo vai a letto feci per baciare la mamma e in quell'istante risuonò la campanella della cena ma no via lascia stare tua madre mi siete già dati abbastanza la buonanotte queste manifestazioni sono ridicole su via sali e mi toccò andarmene senza viatico mi toccò salire la scala gradino dopo gradino come dice l'espressione popolare a malincuore salendo contro il mio cuore che voleva tornare accanto a mia madre poiché lei non gli aveva dato baciandomi licenza di seguirmi quella scala detestata su per la quale mi inoltravo sempre così tristemente emanava un odore di vernice che aveva in qualche modo assorbito fissato quella specie particolare di sofferenza che provava ogni sera e la rendeva forse ancora più crudele per la mia sensibilità poiché sotto quella forma olfattiva la mia intelligenza non poteva più prendervi parte quando dormiamo e percepiamo un mal di denti ancora solo come una ragazza che ci sforziamo duecento volte di dar seguito di tirar fuori dall'acqua o come un verso di Molière che ci ripetiamo senza posa è un gran sollievo risvegliarsi e avvertire che la nostra intelligenza può liberarci dall'idea del mal di denti da ogni travestimento eroico cadenzato era l'inverso di quel sollievo ciò che provavo quando la sofferenza di salire in camera entrava dentro di me in modo infinitamente più rapido quasi istantaneo insidioso e brusco al tempo stesso con l'inalazione molto più tossica di un'insinuazione morale dell'odore di vernice tipico di quella scala una volta in camera fu necessario chiudere tutte le uscite sarare le imposte scavare la mia propria tomba disfacendo le coperte indossare il sudario della camicia da notte prima di seppellirmi nel letto di ferro che era stato portato nella camera perché d'estate avevo troppo caldo sotto le coperte di rap del letto grande ebbe un moto di ribellione voglio tentare un'astuzia da condannato scrissi a mia madre supplicandola di salire per una cosa grave che non potevo dire per lettera il mio terrore era che françoise la cuoca della zia incaricata di occuparsi di me quando ero a combre si rifiutasse di portare quel messaggio non avevo dubbi che fare una commissione alla mamma quando c'era gente dovesse sembrarle impossibile quanto al portinaio di un teatro ricapitare una lettera ad un attore in scena lei aveva in merito delle cose che si possono o non si possono fare un codice imperioso vasto sottile intransidente riguardo a distinzioni inafferrabili o doziose ciò che gli conferiva l'aspetto di quelle legge antiche che accanto a prescrizioni feroci come lo sterminio di bambini lattanti pulibiscono con esagerata delicatezza di far bollire il capretto nel latte materno o di mangiare il nervo della coscia di un maiale quel codice a giudicare dall'improvvisa ostinazione con la quale si rifiutava di fare certe commissioni che le affidavamo sembrava avesse previsto complessità sociali e ricercatezze mondane tali che nulla nell'ambiente di françoise e nella sua vita di domestica di paese aveva potuto suggerirle si era costretti a pensare che vi fosse in lei un passato francese antichissimo nobile e malinteso come in certe città industriali dove qualche vecchio palazzo testimonia che vi fiorì un tempo una vita di corte e dove gli operai di una fabbrica di prodotti chimici lavorano in mezzo a delicate sculture che rappresentano il miracolo di santeofilo o i quattro figli di aimone nel caso specifico l'articolo del codice in base al quale era poco probabile che salvo in caso di incendio françoise andasse a disturbare la mamma in presenza del signor swan per un personaggio così modesto qual ero io esprimeva semplicemente il rispetto che lei professava non solo per i genitori come per i morti i preti e i re ma anche per il forestiero da cui vi è andata ospitalità rispetto che mi avrebbe forse colpito in un libro ma che in bocca a lei mi irritava sempre a causa del tono grave e commosso che prendeva nel parlarne e ancora più quella sera in cui il carattere sacro da lei conferito alla cena avrebbe avuto per effetto il suo rifiuto di turbarne la cerimonia ma per avere una qualche probabilità a mio favore non esitai a mentire e a dirle che non ero affatto io ad aver voluto scrivere alla mamma ma era stata lei che nel lasciarmi mi aveva raccomandato di non dimenticare di farle avere una risposta riguardo a un oggetto che mi aveva pregato di cercare e si sarebbe certo molto adirata se non le fosse stato consegnato quel biglietto io penso che Françoise non mi credesse già che al pari degli uomini primitivi i cui sensi erano più potenti dai nostri discerneva immediatamente da segni per noi impercettibili qualsiasi verità volessimo tenerle nascosta per cinque minuti guardò la busta come se l'esame della carta e l'aspetto della scrittura dovessero informarla sulla natura del contenuto o indicarle a quale articolo del suo codice dovesse far riferimento poi se ne andò con un'aria rassegnata che sembrava significare che disgrazia per dei genitori avere un figlio così tornò un attimo dopo a dirmi che erano appena al gelato che era impossibile per il maggiordomo consegnare la lettera in quel momento davanti a tutti ma che quando avessero portato il risbouché si sarebbe trovato il modo di farlo arrivare alla mamma subito la mia ansia scomparve adesso non era più come un attimo fa quando avevo lasciato la mamma fino a domani perché il mio biglietto senza dubbio facendola irritare e doppiamente in quanto quel maneggio mi avrebbe reso ridicolo agli occhi di Swan stava per introdurmi non di meno invisibile ed estasiato nella stanza dove era lei le avrebbe parlato di me all'orecchio poiché quella sala da pranzo proibita ostile dove ancora un istante prima lo stesso gelato la granita e l'insbouché mi sembravano rinchiudere volutà malefiche e mortalmente tristi al momento che la mamma le assaporava lontano da me mi si apriva e come un frutto divenuto dolce che spezzi il suo involucro avrebbe fatto scaturire proiettare fino al mio cuore inebriato l'attenzione della mamma quando avrebbe letto le mie righe adesso non ero più separato da lei le barriere erano cadute un filo delizioso ci univa e poi non era soltanto questo la mamma certo sarebbe venuta